Buongiorno a tutti, ben trovati a Pinzolo per l'inizio di questa nuova stagione. Non è che ci sia molto da dire, siamo a presentare Kevin Bonifazi, calciatore che non ha bisogno di presentazioni in questo momento, lo conosciamo bene tutti, perciò come diceva Gloria, fate tutte le domande che ritenete direttamente a Kevin, che dopo lo liberiamo per allenamento, se avete poi qualche necessità o qualche domanda urgente da fare a me, sono qua a vostra disposizione. Ciao Kevin, Filippo Corti, TRC, innanzitutto ti volevo chiedere le tue prime sensazioni in ritiro con il Bologna, con Sinisa hai già lavorato, ho al centro tecnico Nicolo Galli per qualche giorno, ovviamente è la domanda che si fa a tutti i calciatori nuovi, che tappa è per la tua carriera, e ovviamente che cosa credi e pensi, perché hai scelto la piazza di Bologna? Innanzitutto penso che qui ci sia veramente l'ambiente giusto per lavorare in modo sano, perché lo staff, le persone della società sono persone disponibili e che hanno anche l'umiltà di ascoltare, quindi c'è un'apertura da parte di tutti, per me è una tappa importante, perché penso che il Bologna sia una società importante, e quest'anno dovremo mettere qualcosa in più per raccogliere più punti. Sai che la difesa lo scorso anno è stata un pochino criticata, prendeva tanti gol, quindi insomma ci sarà per te un super lavoro? Per tutti, non solo per me, però sì, io mi metterò a disposizione. Buon pomeriggio Kevin, Luca Pinkerle, TV Rete 7, Radio Nettuno Bologna 1. Tanto benvenuto al Bologna, e volevo chiederti se per convincerti a venire a Bologna c'è stato bisogno di una chiamata di Sinitia Mihailovic o ti ha convinto ovviamente il progetto Rosso-Blu? No, non c'è stato bisogno della chiamata, però ovviamente ha fatto piacere. E poi volevo chiederti, visto che in una vecchia intervista dichiarasti che per te Leonardo Semplici era come un padre, come un secondo padre, e Luca Gotti per te rappresentava la sua prosecuzione, chi è per te Sinitia Mihailovic? È stata un'esperienza differente, io ero più piccolo, lui comunque mi ha dato sempre apertura, anche se non ho giocato con lui, percepivo che lui mi volesse far giocare per motivi che la quale non potevamo decidere, non ho giocato perché mi feci male ripetutamente, e poi lui andò via. Di conseguenza non c'è stato mai modo di iniziare un percorso. Io penso che il mister sia una persona molto preparata, una persona che ha le idee chiare e che parla in modo chiaro, senza troppi giri di parole. Di conseguenza, quando incontri una persona così, è molto più facile lavorare e creare anche un rapporto. Ciao Alessandro Mossini, Corriere di Bologna, Radio Naturo Bologna 1, benvenuto. Ti chiedo se ti aspettavi in un certo senso un destino diverso dopo l'anno scorso, perché hai fatto sicuramente una buona stagione e l'Udinese aveva in mano, volendo il tuo riscatto. Quindi ti aspettavi che loro arrivassero lì, ti ha deluso il fatto che non ti abbiano riscattato, poi va bene, è arrivata la chiamata del Bologna, è stata una chiamata importante, ma te lo aspettavi dopo l'annata buona che hai fatto l'anno scorso? Quello che penso io è che una delusione no, perché io sono rimasto in contatto con l'allenatore, il quale mi ha espresso la voglia di riportarmi a Udine. Purtroppo per politiche aziendali e societarie non è stato così, di conseguenza non faccio una colpa a nessuno, rispetto all'idea e le filosofie delle società, però non è che ho avuto il rimpianto il giorno che sono venuto qua, anzi sono molto contento e penso che sia per me una nuova occasione, mi posso rimettere in gioco di nuovo, di conseguenza dimostrare da zero quello che valgo e quindi è stimolante allo stesso modo. Ciao, dalla Vite, Gazzetta dello Sport. Senti, l'hai visto giocare in A, come avversario, l'hai visto in questi giorni, che coppia sarete tu e Sommaro? Io mi auguro una coppia affiadata, salda, solida, che dia garanzia alla squadra, che faccia sentire la squadra sicura di poter attaccare in modo spensierato quando abbiamo la palla e che sa che può contare su di noi quando non ce l'abbiamo. Avremo modo in questi giorni di conoscerci meglio, di affinare quelle che sono le idee del mister e dello staff e spero di migliorare le statistiche dell'anno scorso. Ciao, Giorgio Burreddu, Corriere dello Sport Stadio. Senti, che idea ti sei fatto del gruppo? Hai già legato con qualcuno? Conoscevi già qualcuno? C'è qualcuno con cui proprio hai legato di più? Io conoscevo già Orsolini e De Silvestri per esperienze una in nazionale e una nel club. Vedo un'apertura da parte di tutti, non c'è assolutamente un ragazzo che non merita di essere conosciuto perché veramente dal primo giorno non c'è stato una barriera o un ostacolo per poter conversare o conoscere gli altri ragazzi. Vedo che c'è un bel ambiente, loro sono legati tra loro e di conseguenza con umiltà e con rispetto mi inserirò giorno dopo giorno come sto facendo. Ciao Kevin, Alessandro Marzocchi, Medimbo TV. Ti chiedo un paio di cose. Innanzitutto ti abbiamo visto con la difesa 3, ti abbiamo visto con la difesa 4. Dove ti trovi meglio? A 3 o 4? È indifferente? E poi sai che almeno l'anno scorso Mijalovic ha fatto vedere una difesa che i difensori salivano praticamente a tutto campo, una difesa uomo, non posizionale. Ti trovi bene anche giocando così in questo modo un po' diverso? Io credo che differenze tra 3 e 4 non ce ne siano quando c'è un'organizzazione di gioco. Se non si è organizzato non va bene né a 3 né a 4 e di conseguenza viceversa. sotto l'aspetto del difensore a tutto campo credo che ad oggi sia necessario giocare in quel modo perché il calcio ha avuto un cambiamento che richiede questo. A me piace personalmente perché ti dà responsabilità non solo difensive ma anche offensive e di conseguenza ogni tanto anche qualche gioia per noi non fa male e allo stesso tempo però con raziocinio per non liberare troppi spazi per gli avversari. Ti chiedo questo Massimo Vitali e resto del Carlino innanzitutto benvenuto. Tu hai 25 anni quindi sei della giovane guardia vedere gli europei quello che hanno fatto due della vecchia guardia come Bonucci e Chiellini vuol dire che la scuola italiana dei difensori è ancora valida o vuol dire che le nuove leve devono darsi un po' magari una mossa per emulare questi grandi maestri che ha sempre avuto il calcio italiano in difesa? Io credo che non è stato questo europeo a consagrare due giocatori come Bonucci e Chiellini perché sono due campioni e lo sono da tanti anni quest'anno siamo riusciti a raccogliere i frutti parlo d'italiano ovviamente di tanto lavoro che hanno fatto questi ragazzi che ci hanno trascinato con entusiasmo in questa cavalcata bellissima per quanto riguarda le nuove leve io credo che ci siano dei ragazzi con talento testa mentalità e le nozioni tattiche per poter un giorno quando sarà sostituire questi due campioni che oggi ci hanno regalato insieme agli altri ragazzi una gioia grande approfitto per una seconda domanda se ti dico Arnautovic ne avete parlato alleggia nello spogliatoio questo nome di giocatore che fra l'altro abbiamo visto tutti anche come avversario dell'Italia sì io quello che ti posso dire è che secondo me è un ottimo giocatore e sicuramente ci darebbe una mano se venga o meno qui c'è il direttore è meglio di lui non lo può sapere nessuno quindi passo volentieri la palla al direttore la palla è meglio di nome ciao Simone di Repubblica piacere senti ma colpito molto che hai una parlantina molto svelta e con termini molto appropriati ci puoi raccontare due cose su di te fuori dal calcio ma così genericamente mi metti in difficoltà no c'è che studi no volevo chiederti che studi hai fatto ecco ah ragioneria ah ragioneria sì e poi dopo ti sei fermato sì dopo mi sono fermato iniziando a giocare però hai delle velleità di altro tipo oppure ma non ho non ho continuato i studi in nessun modo mi piace magari leggere guardare film quindi comunque ascoltando leggendo e assimilite dei concetti dei contenuti che ti rimangono però non ho non ho continuato studi oltre quelli che ho fatto senti invece di calcio volevo chiederti due cose la prima è se semplici si può considerare l'allenatore scusami che ti ha dato di più e nella tua nella tua carriera ancora ancora molto giovane sì guarda su questo non ho dubbi perché comunque da parte sua fin dall'inizio ho percepito posso dire tranquillamente quasi un amore nel senso mi dava fiducia quando magari la meritavo poco mi ha dato dei consigli per crescere quando ne avevo bisogno perché comunque sono arrivato a 20 anni in serie B con lui e comunque nel percorso ha sempre dimostrato di tenerci a me e ovviamente vale lo stesso per me oggi siamo in due posti diversi ma i rapporti con le persone non cambiano in base a dove giochi poi volevo chiederti un'ultima cosa Massimo vuoi far te? chiedi io ne approfittavo per chiederti se magari visto che è semplice un secondo padre ti ha detto qualcosa prima che tu cominciassi questa avventura? lui ha le stesse metodiche di mio padre non è uno che si dilunga molto nelle parole è un po' più una persona di gesti quindi di conseguenza no non mi ha non mi ha detto niente però so che con il pensiero mi ha augurato il meglio ne sono proprio certo scusa profitto per farti un'altra domanda tu hai lavorato con Gotti che noi conosciamo abbastanza perché è stato qui tanti anni come vice di Donadoni che è un allenatore secondo me molto diverso da Mijailovic per concezioni calcistiche cioè è un allenatore molto accorto mentre Mijailovic è un allenatore che tu poi hai già conosciuto diciamo tra virgolette Garibaldino cioè quindi difendere con Gotti probabilmente è più semplice che non difendere con Sinisa che punta molto su altri concetti spero di essere stato abbastanza chiaro sì si è stato chiaro diciamo che sono due metodiche diverse non ce n'è né una giusta né una sbagliata si può raggiungere la vittoria in entrambi i modi diciamo che Sinisa preferisce difendersi attaccando e questo non è sbagliato perché è anche più facile avendo la palla ci sono dei concetti diversi magari spazi più ampi responsabilità maggiori però questo non mi spaventa perché fa parte del mio lavoro devo cambiare quelle che erano le certezze che avevo l'anno scorso in un altro club ma ripeto questo fa parte del mio lavoro e non mi spaventa ciao Manfredi Campione TV Rete 7 Radio Bologna 1 senti un'altra domanda che in tanti si sono fatti quando sei arrivato e sei stato ufficializzato a Bologna è chi guiderà la difesa tra te e Sumaro perché vai in a sostituire di fatto Danilo che era lui che guidava il pacchetto difensivo chi la guida? Ma io credo di avere un vantaggio rispetto a lui è quello di parlare la lingua e di conseguenza avendo questo vantaggio ho delle responsabilità maggiori qui nessuno vuole fare il capo di nessuno perché Sumaro è un giocatore di tutto rispetto che sicuramente mi aiuterà tanto magari io posso aiutare lui nel parlare nel guidare la linea perché lui non lo può fare visto che ancora non conosce bene la lingua mi prendo questa responsabilità a cuor leggero perché so che vicino ho dei ragazzi disponibili e che ascoltano che non si mettono a fare guerre di potere quindi lo farò io senza problemi altra cosa sei uno che parla molto in campo tu? Io in campo si diciamo la domenica più del giovedì nel senso in allenamento non sono uno che fa grossi urlacci scenate o cose del genere però la domenica con l'agonismo si sono uno che parla molto grazie in bocca al lupo grazie a voi l'ultima cosa così un po' leggera che effetto ti fa avere una fidanzata che ha 800 e passa 1000 follower su instagram onestamente non me ne frega niente dei follower mi fa effetto perché la amo mi ama e mi piace stare con lei però per quell'aspetto lì sinceramente non mi non mi interessa visto che prima avevi detto di conoscere anche a livello di club Lorenzo De Silvestri volevo sapere se anche lui magari ti aveva dato qualche indicazione sul club se avevi sentito anche lui prima di venire a Bologna sì sì io con Lollo ci ho sempre parlato anche negli anni passati e sì lui mi aveva detto mi ricordo anche a fine di Udinese Bologna dell'anno scorso e lui mi aveva buttato lì così neanche se so perché ha detto ma secondo me tu l'anno prossimo potresti venire qua e infatti poi mi scrisse un messaggio quest'estate dicendo vedi te l'avevo detto no ridendo e no mi aveva consigliato sicuramente ovviamente lasciando spazio alle mie idee e alle mie decisioni di venire perché comunque era un ambiente dove si può lavorare bene grazie sempre dalla vita quante volte prima di oggi hai ispirato il Bologna perché da questa sponda se ne è sentito spesso il tuo nome a quasi ogni mercato dico quasi sì era già capitato insomma altre volte ma mai come questa ho visto da parte del Bologna l'interesse di prendermi nel senso è importante per me quando una società ti vuole veramente non quando magari sì ci faresti comodo no ci servi allora è diverso e lì anche tu hai sia più responsabilità ma più voglia di andare in un posto anche se capisco che è un po' presto che probabilmente ci sono giocatori che verranno nuovi mi auguro e magari altri che andranno via così la tua idea per quanto superficiale ancora qual è cioè che campionato ti aspetti per questa stagione che parte in questi giorni ma sicuramente è presto per dirlo però quello che ti posso dire è che l'obiettivo deve essere quello di migliorarsi migliorarsi nei gol subiti nei gol fatti nelle occasioni create nelle occasioni subite bisogna alzare le statistiche e così facendo aumenti il rendimento in campionato con più punti questo deve essere l'obiettivo poi dove arriveremo ce lo dirà il percorso e il tempo però sicuramente non dobbiamo accontentarci di fare il campionato identico l'anno scorso dobbiamo migliorarci sicuramente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti